Ciao a tutti ragazzi sono Trax e vi voglio vedere un nuovo video da questo video notturno in questo video shop del 5 giugno 2020 guys come sono avuto un po' di 100 milioni e ho avuto un po' di torcetta e poi possiamo iniziare a lasciare tutto un nuovo video allora c'è un film bianquatico scherzo in pari e adesso sono qua con una telebona vecchia c'è questa scherzo comunque molto bella qui vediamo il piccolo di più vediamo il piccolo di più di giancio e questa scherzo in piccolo di più di piccolo di più poi c'è squadra su blu scherzo in camembert molto artigliere brutto magma e guarda una bellissima copertura un piccolo ci occupate vabbè ve lo conoscevate tutti questi non c'è sbagliato passa sbagliato molto bene e il nostro pallotto da 200 e fu la fungiosa e non ma 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 questo è tutto il shop di oggi e noi ci vediamo e noi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao